Vicenda Capo Santa Panaggia, il Movimento 5 Stelle, in questo caso il consigliere Trigilio interviene perché l'amministrazione comunale a sua volta intervenga. In che modo? Sì, ho presentato alcuni giorni addietro un'interrogazione rivolta al sindaco che come tutti sappiamo è responsabile della salute di tutti noi siracusani per chiedere se si è fatto qualcosa e quali sono le conclusioni che si è giunti in merito alla nota vicenda dell'installazione di due nuove antenne ricetrasmittenti da parte della Marina Militare nel Capo Santa Panaggia. Il Movimento 5 Stelle è sempre in prima linea per quello che riguarda la salute di tutti i cittadini tant'è che sia a livello locale che a livello regionale che a livello nazionale abbiamo interessato tutti i nostri portavogli. Qual è il vostro rimore sulle antenne? Allora, stiamo parlando di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti. Per essere cari parliamo dello stesso problema dell'uso del telefonino. Soltanto che il tutto rivolto su delle antenne che hanno dei coni di notevolissima potenza si pone il problema di vedere se è stata tutelata ed in che termini la salute di noi siracusani trattandosi di una zona ad alta intensità abitativa. In pratica noi chiediamo di sapere se il sindaco ha fatto qualcosa, quali sono le conclusioni, se è stata interessata l'ARPA, cioè l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, l'ASP e ripeto a cosa si è giunte, quali sono le determinazioni del sindaco nell'interesse della salute dei nostri concittadini. C'è il rischio di creare anche un allarme oppure no? Allora, assolutamente no. Non possiamo noi creare né vogliamo alcun allarmismo. Vogliamo soltanto chiarezza. Il problema è stato posto al vaglio dei nostri portavoce, tant'è che il siracusano Rizzo, che è il presidente della quarta commissione alla difesa alla Camera dei Deputati, ha effettuato a metà luglio un sopralluogo ufficiale a cui hanno presenziato sia Stefano Zito, che Giorgio Pasqua, che Filippo Scerra, che Paolo Ficara. Quindi il movimento è presente ed è sul pezzo. Però vogliamo sapere, ribadisco, se è stato effettuato ogni controllo, perché parliamo di possibili danni, sottolineo possibili danni, da elettrosmog.